benvenuti ragazzi sul canale bg persone games nuovo episodio del giovedì targato fc 2024 con la carriera di mister allegria allora ragazzi già vedete diciamo partitaccia partitaccia innanzitutto ovviamente nell'ultimo episodio quello di martedì e ringrazio tutti quelli che si sono divertiti non l'ho condiviso solo sul gruppo appunto facebook a cui fa riferimento al canale come vi avevo già belle anticipato non volendo intasare tutti gli altri gruppi mentre questo video cercherò di girarlo in tutte quelle che sono appunto le piattaforme a cui fa riferimento il canale in maniera tale che la più ampia è diciamo platea può vedere questo video a parte tutti gli scherzi oggi partitaccia contro il manchester united si comincia subito un manchester united che punta alle posizioni nobili nel campionato noi invece siamo pur avendo vinto le ultime due partite tra l'altro tra l'altro appunto siamo in ai quarti di finale nella nella coppa più importante di inghilterra abbiamo eliminato nell'ultimo turno proprio i i uno delle favorite cioè il celsi 2 a 1 bella partita solo avete vista dato a vedere nella prese dedicata all'ultimo episodio quello di martedì e oggi solito due due partite una contro l'unite quella te lo vediamo giochiamo a lord trappard quindi partita ovviamente da un certo passino come sempre ragazzi io vi invito però dirò anche alla fine del video ve lo dico già all'inizio di iscrivervi al canale e di commentare le prestazioni di mister allegria andiamoci a vedere la squadra la relazione per partita andiamoci a vedere il manchester c'ha uo tony cross il besho che appunto passa da real madrid e viene in inghilterra e appunto rinforza la mediana con un certo annibal ragazzi così come si vede fa veramente paura poi la difesa è composta da ghimenez e arraio show e williams sono due terzini il portiere e onana e poi davanti c'è nashley anthony e russford perdonatemi il mio francesismo ma insomma forse è anche questo che crea un po di interesse spero in questa partita in questo in questa carriera allora lo riusciamo con un 4 33 offensivo ovviamente c'hanno un paio di prima bruno fernandez ragazzi come si fa non a non parlare di bruno fernandez giocatore duttile centrocampista avanzato trequartista all'occorrenza anche un centrocampista difensivo praticamente uno dei giocatori più completi poi loro in panchina e noi abbiamo abbiamo anno martinez terzino che può fare anche difensore mont un'alternativa a bruno fernandez pure bruno fernandez magari può prendere il posto di animal un casemiro un mediano puro poi lindeloff un altro terzino difensore e poi un al non so che ruolo fa ma insomma ci sarà da dividere idea tattica ogni volta che riconquista la falla cerca sempre di servire bene talmente i giocatori più avanzati in posizione di filato il pericolamento è anche quando i terzini salgono ora io devo essere sincero williams non lo conosco ma show è un terzino di spinta ma non è certamente un terzino che che fa paura rispetto ai nostri terzini sinceramente non non ho molta paura calcio d'inizio vediamo un attimino allora la nostra formazione cucca ragazzi siamo un po al burro bisogna un po cambiare qualcosa perché qui allora io direi willow che lo mettiamo un panca e facciamo giocare black taylor quale può giocare un po a destra gioca a sinistra veramente giocatore duttile ben ieder lo mettiamo inizialmente in panchina e bubba a bubacar quindi una coppia di attacco di nedi da due giganti bubacar e hamström carrido mettiamo al posto di calidio mettiamo millei poi donzel lo mettiamo al posto di castrovilli così lo facciamo riconosare i provviso non difesa ragazzi provviso non difesa perché perché abbiamo dune e fox allora direi di mettere fox al posto di cook e dune a posto del capitano boiata e dune diventa dune diventa subito capitano quindi una formazione un pochino di ma diciamo riviste ricorretta facciamo rifiutare qualcuno andiamo io chiamo uscire la partita come sempre il video metterà di due partite complete senza tagli e con tanti strafaccioni del faccione come è caratteristica bella questa immagine ingresso in campo è un margister united che rispetto alla realtà si è decisamente rinforzata perché di fatto ci sono diversi giocatori interessanti lasciate perdere appunto rossford che ormai giocatore storico del 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 united ma insomma ripresa si è decisamente rinforzata con il linguaggio ex nel spagna ma non mi ricordo e barcellona che biscono comunque campo non in perfetti condizioni è l'altro forse chiaro già con tanti atto lo sono molto più veloce e chiupi a sotto sotto bimbi che io sotto assistere una partita di calcio e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio rimane tanto che non c'è credo che attenzione alla ross auto tesi ri e no appoggio sul rascolo grazie ci fanno vedere palla santoni si interisce bene recupera davo mille mamma mia mille che giocatori veramente c'era un po troppo di fila addio addio ridirete rientra 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 il velocissimo che è questo calcio di rigore no al camere rosso anche va bene ma non era né calcio di rigore né fallo dal rosso morgan fox il difensore si è da dietro forse da dire però non è calcio di rigore addio subito si parte maluccio maluccio uno meno dopo 15 minuti la vedo muscia bisogna ricorrere al riparo come non lo so ora vediamo un po abbiamo un difensore in meno come si fa non so ora magari facciamo giocare il terzino mamma mia sul grassato grande portiere rimbarzino 1 a 0 anche fortunato il manchester anche un troppo porta vantaggio dopo 15 minuti antonino bisogna cambiare qualcosa bisogna cambiare la difesa passare a una difesa a 3 ovviamente senza il terzo perché altrimenti c'entra un po sparisce quindi cerchiamo di gestire la formazione qui fox non c'è poi dune è già il burro quindi noi bisogna subito col modulo con la difesa a 3 difesa a 5 che non sarebbe male ma anche questa difesa a 5 la vedo dura un 3 4 1 e bisogna giocare per forza così con la rosa allora eccolo qui dune capozzo bisogna togliere e mettere boiata così in questo modo qui poi backtail lo gioca in questo modo pal no allora io direi questo gioca qui e qui a posto di pal e bisogna mettere ben niente bisogna giocare in questo modo qui ragazzi o se no castrovilli lo metto qui a posto di lui gli faccio fare un po' l'esterno l'attacco diciamo un po' trequartista bisogna giocare così fox ci ha veramente distrutto 1 a 0 per il manchester united si parte ma 12 gol mi siete partiti c'è un cambio da parte di mista allegria vediamo un po' se questo cambio porterà i suoi frutti ovviamente siamo un uomo meno il manchester united veramente ma e picia come eccoci via no ci siamo via questa riprenderà un sacchettino è una sport ragazzi 2 a 0 questa partita lì fa un pandan con quella di ieri con e football a proposito sono divisa andate a vedere la nuova modalità beh però è più nuova anche se siamo in un gruppo diciamo diverso ma insomma 2 a 0 ragazzi Rashford mette anche il suo sigillo poteva solo raccogliere il pallone in fondo alla rete ma finirà questa partita via andiamo alla sconfitta e sta volta fuori casa black taylor dai bravo se l'è bevuto e in bocca e a tirata a strumenti no mille in bocca e si vede manca un po' di pensi mamma mia cosa ha sbagliato lui meno male c'è nessuno c'è nessuno mamma mia io lo scudo per l'interruzione presidente ne approfitto per confermare che ci sta dunque il gol del city si sblocca dunque il match siamo 1 a 0 ragazzi proprio possono colpire di rimessa addio addio nashri mamma mia che errori è un tirassegno ragazzi con un uomo in meno siamo letteralmente in balia dell'onda dune ragazzi ci ha fatto un danno un minuto questa è l'entità del recupero bene 1 2 a 1 zitti zitti ci siamo ha segnato bene 2 a 1 ragazzi ci siamo con un uomo in meno attenzione attenzione il QPR è vivo attenzione attenzione guarda cosa fa è andato via in velocità pur stanco come pochi e poi ha anticipato l'uscita di un ottimo 2 a 1 si porta a casa ci si porta si fa all'intervallo quindi a bene un teccardo con un risultato non così poi esageratamente compromettente bisogna cercare un attimino il mister allegri ha rimescolato un po' le carte si rischia perché un giocatore in meno soprattutto in difesa si vede e come ha rischiato un po' le carte da grande allenatore che è e noi continuiamo ovviamente dovremmo cercare di contenere un attimino le avanzate vedi qui mi manca un giocatore e l'ho detto ho detto prima pallaccio lo butti fuori ah lui non lo butti fuori è entrato a gamba tesa discutibile era l'arbitraggio ah ah attenzione rientriamo risultato che torna dunque in parità uno a uno no grazie si vola verso la porta è buio non si vede nulla buio non si vede nulla c'è l'eclissi no guarda la cacelli non è mai così buio non si vede nulla bravo black vada solo black vada solo vada solo porta via l'uomo porta via l'uomo continuo ad avanzare sotto 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 tanto non abbiamo niente da perdere verso un'ana Ronald Araujo Araujo ecco la pronuncia giusta vado bene no cosa ha sbagliato lui cosa ha sbagliato Castrovilli poteva fare 2 a 2 comunque ci siamo mandi male esce ma che devo c'avere se le pelle più lunghe chi entra non ho visto casa di Miro si copre il mister del Manchester United si copre vuol dire che si fa paura dato che è buio mamma mia è buio attenzione mamma mia sta fermo ma il suo fisico per me Tony Cross non ce la fa più ed entra Mount al dio benedetto stanno pigiando pigiano perché ora ovviamente siamo stanchi vai da te Black prima la destra la sinistra Black Black Taylor potrebbe essere lui manca poco alla fine manca non importa non importa Black non si vede nessuno no porca miseria troppi errori troppi errori davanti al portiere come si fa a sbagliare questi bucchi li abbiamo fusi seduti noi e poi c'è uno stancho è buio lì è buio succedimento interessante peccato 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 speccato siamo stati in partita fino all'ultimo secondo Castrovilli Garrido Castrovilli ragazzi tu ben entrati peccato ragazzi ci abbiamo provato un uomo in meno abbiamo avuto la possibilità di poter pareggiare e invece poi dopo abbiamo subito il gol del 3 a 1 che ci afflosce in maniera definitiva comunque diciamo il ministro ha provato di tutto per poter recuperare la partita oggettivamente già molto compromesa soprattutto dopo l'espulsione si rischia di prendere un imbarcato qui si va sul buio ormai qui siamo letteralmente crollati finiamo questa partita siamo letteralmente crollati il portiere dopo una scelta non si muove quindi la difesa manca proprio il difensore centrale anche se si gioca con una difesa a 3 diventata 2 ma si prosegue per il vantaggio finita e ragazzi che c'è un po' da dire loro sono stati molto diciamo bravi a recuperare oppure a sfruttare il nostro deficit della partita abbiamo due partite molto difficili purtroppo vediamo un po' c'è il chat chi è che vuol parlare il chat assistente parlare di Paolo eccoci ben ieri si è mi ha accorto di programma il quadro è squalificato mostra le azioni partite sotto lo stato Newcastle il compiere l'altro precedente 21 aprile vabbè premio per torneo abbiamo vinto ok c'è il giocatore Cook ci sono mostro molto male di Osa per non aver giocato sa quanto ci tengo ad aiutare la squadra e la partita che contano pensavo che potrei fare un po' di turno e presentarmi in vista ok rimettiti in forma più di piacere di giocare sempre vieni vanno un po' stanco scendere in campo ho preferito con 101 di poso mi aspetto ora che è chiaro che ora devi giocare per forza ora il problema è che vediamo quanto gli danno di di disqualifica Bojata non ce l'ha più e Fox non può giocare ah era Fox non era ad uno un altro difensore centrale chi è è lui ce l'abbiamo altro allora ragazzi qui Bojata non può giocare Dune non può giocare mettiamo Goobies si fa giocare un giocatore che non ha mai giocato facciamo un po' di un pochino di allenamento dai se no qui allenamento programma di allenamento alleniamo un po' la squadra perché qui applica applica a tutti ok riapplichiamola a tutti ok vediamo un po' quel poi programma di allenamento sono tutti stanchi ok abbiamo fatto tutti i portieri ok allora andiamo avanti andiamo avanti avanziamo giochiamo in casa contro l'az allora ragazzi bisogna cercare di evitare che la partita di contro il unite porti di residui a questa partita davvero dura perché abbiamo dovuto mettere in campo non avendo uscire magari si guarda un attimino fammi vedere un attimino statistiche allora no allora vediamo un po' relazione intanto guardiamoci l'arsena Juan Jesus c'è davanti con Diaz che quindi è passato all'arsena Saka c'è sempre poi Navas parsa dal PSG all'arsena Tavares altro di persone molto Terzino molto forte così come Timber in panchina Gabriel Martinelli ragazzi ci sono diversi giocatori importanti che sono in panchina loro giocano con 4-3-3 di contenimento anche loro sono molto avanti in classifica e sono reduci da un pareggio che però avviene dopo due vittorie consecutive quindi la squadra è in forma l'arsena cerca sempre di pensare alti per conquistare palla scalta e veloce prova a sfruttare le transizioni perché in caso della rete non appena recupera il possesso quindi molto molto giocano alti qui si gioca all'inizio vediamo noi vediamo un po' abbiamo un po' tutto recuperato i bei Eder io e Dune facciamo così guarda io lascerei Goobins per vedere se questo vi gioca Miller allora io vorrei giocare un pochino più spinto quindi con lui che si mette Ayala si fa giocare facendolo un attimino riposare e poi Blacktail o Smith e Blacktail lo mettiamo al poso di Smith così si riposa Smith Goiata in panchina Dune in panchina e Goobins al debutto proviamo giochiamo la partita questa partita è difficile noi siamo in una condizione diciamo di classifica ambigua nel senso non metà campo però a metà campo a metà classifica però c'è il forte rischio di poter fare un patatrack belle queste immagini terza maglia o la seconda terza o la seconda dell'Arsenal noi con la nostra primissima più veloce questi vieni e parlavo con un amico del canale che saluto Kuso Kuso Game che secondo lui ma lo sto vedendo anche ora anche nella bella carriera offline il discorso del pressing asfissiante a seconda di come uno gioca effettivamente così ragazzi facciamoci un po' addio poi soprattutto per certe squadre qui si rischia un'altra botta di velle mamma mia che parato rigore in movimento grande portiere grande portiere qui non so chi era se era Saka che ha sbagliato loro anche loro c'era un attacco molto forte e vabbè bravo ottimo il check all'inare di rigore ah aio di aio che sta fermo il portiere ci si può fa po' che sta fermo che sta fermo ci si può fa po' io ripeto per certi versi il fatto che quando l'avversario supera la linea diciamo del si avvicina al dischetto il portiere sta fermo è un bug non è che sono giocatori perché non è possibile io ho utilizzato giocatori di over veramente basso nell'online e questi escano in qualsiasi modo quindi secondo me è un bug che ci siamo un bug che ci siamo portati e che con un portiere di un certo tipo è attenuato con un portiere che avevamo prima e la capozzo oggi veramente deprimente da ieri che non si vince una partita comunque vabbè meno male ci ha salvato il palo ci ha salvato il palo match che resta apertissimo avversari che potrebbero approfittare del momento per rifarsi sotto bravo hook visto bene vai pal sali non è successo nulla si perde un a zero bravo la aveva piazzata bene che caso forza ragazzi su magari il pareggio è vero che si è incontrato le più forti la spazza lontano il gioco ma non c'è chi esce beh beh non ce la fa più l'allenamento ma ha fatto sta fermo un paio di partite per quello bisognava prendere un giocatore altrettanto valido e noi poi abbiamo i giocatori ma Armstrong non ha più fatto nulla da qualche partita è come se non ci fosse non ci fosse nemmeno dunque vietato perdersi d'animo l'unico aspetto che mi ha lasciato però il bimbo lì il difensore è l'altro la fa gioventini 8% come sia di vittoria amma mia per forza è una più forte eh ragazzi partitacce partitacce anche questa brutta partita ma soprattutto non abbiamo fatto nemmeno un tiro poi brutto episodio difendiamo la partita e ora si vede appunto ora qui il problema voglio vedere alla fine dell'episodio e eeeh vabbè oh è una falla però arbitraria vabbè tornerà lo spettacolo di a fake up con questo quarto di finale su IATV partita che metterà contro queensburg rangers e lezionate con i quarti di finale entriamo finalmente nel vivo 8 squadre sono rimaste a contendersi il titolo nessun appassionato vorrà perdersi lo sconto tra queste due formazioni se l'è bevuto no cosa ha sbagliato primo tiro eh iniziativa che finisce sotto che vanno gioettini loro suuuu bravo no perché chi è mamma mia punto sotto dunque per aggiornamento buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio bravo sotto ragazzi si sta provando via bravo che gol ha fatto lui che è black taylor bellissimo questo gol è due ore che si stava attaccando bellissimo messaggi su messaggi grandissimo si esalta come un dannato uno a uno uno a uno al sessantanovesimo black taylor sempre lui sempre lui i gol pesanti di black taylor con di barbetta bianca quant'è tanti ha black adesso si guarda grande grande prestazione ennesima grande prestazione di questo piccolo grande uomo boh con del legnato c'è andato non poteva far nulla Ayala esce entra a castrovilli abbiamo centro un po' più stanco d'Italia io credo d'Italia d'Inghilterra grande gol qui il portiere ha fatto cosa vuoi se tu fa grande gol uno a uno giusto pareggio per ora perché oggettivamente a scapito di vele che erano le probabilità che ci dava il computer di pareggiare invece siamo riusciti sotto bimbi sotto bimbi dai e ora sotto con la vittoria o perlomeno andrebbe bene anche dopo la scoppola di prima addio e od rientra rientra il difensore bravo c'era solo lui grande portiere oh ora è riuscito bene bravo ma Willock qui si scivolano 84esimo il gol dell'ultimo secondo tanto loro entrano c'è il cambio tra i gunners ah ma metteci il piedino tutto c'è una novità che riguarda gli hammers andiamo subito a collegarci ne ha fatto un altro il West Ham il marcatore livoriano Maxwell Cornet doppiezza per lui ha obbriacato i difensori con una serie di dribbling prima di battere il portiere golasso allungano ulteriormente portandosi sul 4 a 0 quando siamo all'87 l'ha murato l'ha murato finita 1 a 1 bella partita però bella partita e giusto pareggio di fatto giusto pareggio ci siamo ripresi tra le altre cose l'Arsenal molto più avanti di noi sta lottando per un posto almeno in Europa quindi un punto veramente importante contro una delle forti squadre del campiato inglese bella però questa immagine Black Taylor strepitoso ci ha dato il pareggio primo tempo veramente brutto veramente brutto che fa pari con la brutta partita contro il Manchester però ovviamente nel senso tempo è avuto fuori lui Black Taylor a 69esimo pareggio con un gol veramente bello voglio vedere le pagelle se si possano vedere veniamo un attimino prestazioni Abubakar 8 e 3 Black Taylor solo 7 e 9 ma Abubakar ha fatto da sponda ha fatto un po' tutto ecco poi nota positiva questo Joe Gubbins difensore centrale andiamo a cercarla ma ce l'abbiamo in casa facciamolo crescere questo Joe Gubbins con 6,9 è retto da solo la difesa e ovviamente soprattutto rispetto ai più vecchi ha più stamina ok quindi basta vediamo un po' avanti non è niente intervista vediamo un attimino come sono andate le altre partite con questo tempo Bormont 4 a 0 allora io direi avanziamo un attimino allora Cucchi sarà arrabbiato perché si è fatto giocare allora partita e intanto abbiamo uscire la classifica ah c'è il turno contro l'Itz quindi martedì ragazzi si torna in Coppa con nell'Emerite in questi quarti di finale l'obiettivo è quello di vincere contro l'Itz e superare il turno e fare le semifinali di Coppa però volevo vedere in campionato come si era come si era messi allora 7 undicesimi 36 punti vediamo un po' intanto l'Itz si è staccato dalla zona retrocessione di un solo punto che adesso ha 22 punti vabbè noi ormai siamo decisamente fuori dalla zona quella calda però in cima abbiamo ovviamente c'è un grosso scalino tra il decimo posto e noi 4 punti ma soprattutto insomma il posto in Europa è a 49 punti quindi molto lontano da noi sono 13 punti sono tanti punti eh sono tanti punti ma non credo che sia il nostro obiettivo il nostro obiettivo è andare avanti nel modo possibile in campionato e soprattutto di cercare di andare il più lontano possibile nella Coppa quindi contro l'Itz cercheremo di vincere non è impossibile anche se è un po' la bestia nera del QPR del targato mister allegria ma cercheremo di essere lì pronti a vincere intanto il Chelsea che è stato il nostro avversario ha battuto 3 a 0 nel turno che ci ha visto come è qui 2 a 1 contro questi un po' vecchiotta un po' vecchiotta ok ragazzi io direi di chiudere qui andiamoci a vedere le chat chi è che brontola ah mamma mia smith gioco con l'Irlanda del nord vabbè Paul smith ha giocato il 31 marzo e qui da 25 non ce l'abbiamo Paul smith perché è con l'Irlanda ok squalifica scontato ah ok Foxan può rientrare è già un bono io direi però di chat giocatore ecco chi è Cook grazie per avermi mandato un campo un miss è stato bellissimo il centro di nato mi do l'idea di coprire con ci si era il senso della stagione beh meno male bravo Cook hai giocato perché un ce n'è l'altro ah chi è questo Alex Sandred è un centro ampio il promesso ufficiale che abbia il gioco di cedermi non mi sono matronato posso di essere migliorato perciò vorrei vedere il mio stipendio dovrei guadagnare di più per quello che sto dando alla squadra se ne felice ma quando chi ha questo video ne riparleremo presto ora mi permetto che ti parleremo del tuo contratto ok dunce riduce mister allora io direi questo direi intanto facciamo il primo e poi chiudiamo il nostro il nostro dov'è qui la rosa hub della rosa facciamo un allenamento per potevo farlo prima devo essere sincero questa è una promessa è quattro anni ha 23 anni la promessa insomma comincia a essere è contento perché gioca terzino destro no io volevo in mediano eccolo qui aiala che è un cdc io volevo fare piano di crescita lo volevo trasformare in cc quindi registra ritratto 90 volta settimane a mappa equilibrata piano di crescita ruolo difensore terzino centrocampista centrale 82 quindi io lo volevo portare a centrocampista centrale quindi un qualcosa di questo tipo tra le altre cose un centrocampista difensivo perché poca roba poca di metterlo in questo modo qui e poi basta ok vediamo un po' ci mette la vita in un uomo però intanto magari lo abituiamo a quel allora ragazzi io direi di chiudere qui questo episodio una sconfitta netta ma dettata soprattutto dal fatto che siamo abbiamo dovuto giocare più di un tempo perlomeno un tempo e qualche spicciolo senza un uomo un difensore centrale un difensore di esperienza anche se poi avevamo in qualche modo riaperto la partita ma poi siamo crollati sotto i colpi diciamo crudeli di 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 russford e compagnia bella e quindi abbiamo perso 4 a 1 invece contro la formazione dell'arcel un'altra grande squadra che comunque è sotto rispetto alla al Manchester United nota positiva prestazione entusiasmante di Black Taylor ma questo mai lo sapevamo ma anche il nuovo difensore centrale è stato veramente molto molto bravo qui abbiamo alcuni giocatori che vedo qui Black Taylor 69 migliore in campo 27 anni ragazzi questo mi ha fatto giocare perché è velocissimo è molto bravo non ha un buon dribbling per quello che è la carta e poi qui sto vedendo anche altri giocatori Wara che è un centrocampista e poi un cdc callback e beh ieri 30 vattranni 3 contratto 3 mensilità cos'è vabbè ragazzi cercherò di studiarlo e poi magari ve lo dirò niente ci salutiamo e ci vediamo per quanto riguarda appunto il capitolo FC 24 martedì sto cercando ma non ve lo prometto di inserire in qualche slot del canale anche un'analisi per quanto riguarda l'online su alcune tattiche e soprattutto sull'uso di qualche giocatore anche in virtù di questi aggiornamenti che hanno fatto a me rinserire quel pressing a sfissante che in certi versi si vede anche nella nella carriera offline quindi cercherò un attimo lo sto preparando sto cercando sto testando alcuni giocatori sempre nella ovviamente nell'ottica di divisioni non nel Chelsea e soprattutto di pochi pochi spicci per poter creare questa rosa io vi saluto vi do appuntamento a domani con il nuovo episodio di Hogwarts Legacy come è solito poi continueremo la storia e poi tutto quello che è la programmazione ormai diciamo classica del canale ciao grazie a tutti Grazie a tutti